parli tu o parlo io? Facciamo una cosa, parliamo un po' a piedone, non se ne parla più, vai! Allora ringraziamo Paolo Marra con la sua trasmissione, si giri con me, per la seconda volta qui a Campora anche se la prima volta successe circa dieci anni fa, dieci anni fa quando la nostra Prologo era all'inizio, era il 2011, noi siamo nati nel 2010 quindi avevamo 7-8 mesi. Diciamo che quasi quasi vi ho inaugurato io, sei stato il primo, devo dire che è sempre un piacere ritornare a Campora San Giovanni insieme alla Prologo perché forse non tutte le Prologo, diciamo che ci tengono a fare il mestiere, a quello che è proprio il loro compito che devono svolgere, quella della promozione del territorio. Devo dire che voi della Prologo di Campora San Giovanni siete sempre pronti a captare quando c'è la possibilità di far conoscere e di promuovere per l'appunto il territorio, questo che forse molti altri Prologo non fanno e di questo mi dispiace perché la Prologo è l'associazione come dire la più importante per quanto riguarda il territorio per cui se non lo fa la Prologo... Chi lo fa? Chi lo fa? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Quindi grazie anche per questa edizione 2021, ci avete fatto trovare tante cose importanti per la nostra trasmissione e ci vedremo tra dieci anni. No, se partiamo ci vediamo, è il primo anno che partiamo. Tu lo sai, non è che sei venuto soltanto dieci anni fa, sei stato a Campora a fare spettacolo due o tre volte, quindi... poi due anni fa abbiamo girato Parliamoci Chiaro e un affezionato di Campora, Paolo Marra. Stavo per rimanere male perché quando ti ho detto ci vediamo tra dieci anni pensavo che mi vorrei incontrarti già da cent'anni. Tu pensi al mondo caccia e danni. Ti scoprirò i tuoi occhi bene a tu. Ma i suoi non si vedono perché c'ha gli occhiali, avete capito? Io mi cacciava. Grazie. Comunque grazie a Paolo Marra, grazie a Videocalabria, grazie a Liberi TV, ad Antonio Abruzzese che è sempre con noi. Abruzzese è un'altra persona che è sempre pronta davvero quando ci sono questo tipo di... È un amico. Quindi grazie a lui, grazie a tutto lo staff di Liberi TV e a tutto lo staff di Videocalabria. Ci vediamo la prossima volta. Siamo liberi perché c'è Liberi TV. Liberi TV, ciao grazie a tutti. Mamma se un spot me lo pago. Grazie a tutti.